Ciao bambini! L'avete saputo vero? Come che cosa? Sto parlando dell'ultimo grande progetto su Pinocchio. Verissimo! Si chiama Pinocchio nella rete. Un progetto che unisce tutti i tipi di scuole, dalla materna all'università, pubbliche e private, nazionali e straniere, insegnanti in servizio ed in pensione, genitori e privati cittadini. Certo! È dedicato proprio anche a voi bambini! Partecipando imparerete ad usare programmi e molti servizi online su Elweb 2.0. Tutti strumenti gratuiti! Vi divertirete un mondo! Vi aspettiamo! Grazie a tutti!